Benvenuti all'ottava lezione del corso di montaggio video con Adobe Premiere. Sono Fabio Ambrosi e anche in questo capitolo del corso vi accompagnerò alla scoperta di uno dei software più usati e apprezzati, perché no, al mondo per il montaggio audiovisivo. Nelle lezioni precedenti abbiamo visto come scaricare ed installare Premiere, abbiamo visto come configurare alcune preferenze importanti di Premiere, come il salvataggio automatico e la cache multimediale, abbiamo visto come gestire lo spazio di lavoro e i pannelli per lavorare in maniera ordinata con Adobe Premiere e abbiamo visto soprattutto all'inizio molta teoria su cos'è un oggetto multimediale, cos'è un video e cosa dobbiamo sapere prima di iniziare a lavorare in generale un filmato. Oggi andiamo avanti per vostra gioia, per la gioia di quanti vogliono subito mettere le mani a un video e cominciare a tagliare, cucire, eccetera, eccetera. Ci arriveremo. Piano piano non temete, se vi siete persi qualche lezione, iscrivetevi al mio canale YouTube, guardate la playlist e recuperate, se volete, le lezioni precedenti. Oppure andiamo avanti, come preferite. Cosa importante però, venite a trovarmi sulla mia pagina web www.fabioambrosi.it perché qui, oltre ad un articolo della lezione in cui cerco di sintetizzare quanto detto durante i video, troverete anche e soprattutto l'indice di tutti gli argomenti che affronteremo nel corso di montaggio. Alcuni li abbiamo già trattati. Come potete vedere, molti altri dovranno venire. È un corso molto lungo, quindi mettetevi comodi e senza perdere altro tempo. Continuiamo subito. Come importare materiale e in generale oggetti multimediali all'interno di Premiere. Vi dico subito che spesso in Premiere non esiste solo un modo per fare le cose. Spesso, molto spesso, in Premiere, per fare un'azione esistono tante strade. Qual è la strada più giusta? Sta a voi. Ognuno sceglie il modo migliore per raggiungere il proprio scopo. Per importare, ovvero per prendere un file, che può essere un video, un audio, una fotografia, e portarlo dentro a Premiere, Allo stesso modo, esistono vari modi. Ok? Il modo più semplice, forse più immediato, che tutti possono immaginare come la strada più intuitiva, è quello di andare nel menu File, scendere fino a Importa e cliccare. Ok? Quindi File, Importa, clicca del mouse e si apre una fantastica finestra da cui possiamo già iniziare ad importare del materiale. Oppure, un altro modo per importare il materiale in Premiere è quello di fare doppio clic nel pannello progetto. Piccola parentesi, il pannello progetto, questo qui, che vedete, è il cuore del nostro progetto. È talmente importante questo pannello che dedicherò la prossima lezione a spiegare come funziona questo pannello e come organizzarlo al meglio. Proprio perché questo è il pannello più importante in cui lavorare. Per importare del materiale audiovisivo è possibile fare doppio clic qui dentro, in questo spazio vuoto, e con il doppio clic del mouse, tasto sinistro, automaticamente si apre la stessa cartella di prima che abbiamo visto aprirsi andando su File e Importa. Quindi, ricapitolando, o andate su File e poi successivamente cliccate su Importa oppure doppio clic all'interno dell'area del pannello progetto. Ok? Ma Premiere ha altri modi per importare materiale multimediale. Forse un modo molto rapido per aprire subito la finestrina che abbiamo visto aprirsi prima è quello di utilizzare i tasti della nostra tastiera. Consiglio, utilizzate quanto più possibile la vostra tastiera per lavorare. Quello che distingue un professionista da un amatoriale, da un dilettante, dando alla parola dilettante tutto il massimo rispetto che merita la parola dilettante, è l'utilizzo della tastiera. Un professionista è molto veloce nel fare il proprio lavoro perché sa utilizzare al meglio i tasti della tastiera. Allo stesso modo, per importare del materiale multimediale, va benissimo anche fare il doppio clic o andare su File, Importa, ma premere la combinazione di tasti Ctrl-E ha un effetto immediato, quello di aprire appunto la stessa finestra che abbiamo visto aprirsi prima. Perché questo è un metodo da privilegiare rispetto agli altri due? Beh, intanto io sconsiglio quanto più possibile l'utilizzo di questi menu, se non strettamente necessario. Perché? Perché comunque, per quanto possa sembrarvi stupido, è un gesto che dovete fare con il mouse di andare nel menu e cercare l'opzione che desiderate. Ripeto, può sembrare stupido ma perdere anche due secondi per cercare l'opzione che desiderate a fine giornata può significare perdere diversi minuti. E credetemi, se lavorate in un ambiente broadcast come può essere la creazione di un telegiornale o in una newsroom, in una redazione e avete bisogno di essere efficienti al secondo, più riuscite ad essere rapidi e meglio è. L'utilizzo della tastiera è sicuramente uno dei metodi più veloci per poter lavorare. Quindi per importare i file, oltre ai due moti che abbiamo visto all'inizio di questo capitolo, c'è la tastiera CTRL-I ed è sicuramente il metodo che io vi consiglio di utilizzare. Però, 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 molte persone a cui ho insegnato ad utilizzare Premiere mi hanno chiesto Fabio, ma è possibile trascinare i file direttamente dentro a Premiere? La risposta è assolutamente sì, è possibile. Se voi aprite l'Esplora Risorse di Windows e andate nella cartellina dove avete il materiale da importare, prendete un qualunque file e lo trascinate sempre dentro al pannello progetto, importate un file. Vedete che il mio file è presente all'interno del progetto. Quindi sì, è possibile prendere un file dal vostro computer, anche dal desktop o anche dalla cartellina dove avete tutto il materiale e trascinarlo dentro al pannello progetto. Però è una cosa che io sconsiglio di fare, almeno e soprattutto se siete all'inizio del vostro percorso di apprendimento. Il perché lo scoprirete nelle prossime lezioni. Il consiglio che posso darvi è utilizzate o il doppio clic dentro al pannello progetto oppure la combinazione di tasti CTRL-I che sono sicuramente le due soluzioni più rapide e veloci. Come scoprirete in Premiere esistono tanti modi di fare la stessa cosa e per importare un file esiste un quinto modo, sì può sembrare assurdo, ma esiste un quinto modo per importare un file in Premiere che comunque può essere anche pratico se non vi ricordate gli altri quattro. Tasto destro all'interno del pannello progetto si apre il classico menu dove trovate il classico tasto Importa. Come potete vedere esistono ben cinque modi diversi per importare del materiale audiovisivo all'interno di Adobe Premiere. Nella prossima lezione vedremo come importare molto materiale perché sarebbe bello lavorare con un solo file come in questo caso ma vi renderete presto conto che quando lavorerete ad un progetto video dovrete avere a che fare con migliaia, no migliaia no dai esagerato, centinaia, sicuramente decine, spesso e volentieri centinaia, raramente migliaia di file diversi. Quindi vi aspetto alla prossima lezione, nel frattempo iscrivetevi al mio canale YouTube per restare aggiornati sui nuovi tutorial che pubblicherò di qui in avanti, venite a trovarmi sul sito www.fabioambrosi.it dove ci sono tutti gli articoli delle lezioni fatte fino ad ora e anche qualcosina in più e venite anche, perché no, a mettere un like alla mia pagina Facebook, mi trovate con il nome Fabio Ambrosi e il logo che vedete qui su YouTube. Alla prossima lezione.